Diciamo che per noi è un grande piacere essere qui all'Ampiri. C'è un sacco di bella gente, un sacco di begli amici. Nonostante veniamo da lontana, dall'Umbria, è bello, avremo questa sera con noi un ospite speciale mino all'armonico, un grande amico, ma avremo tempo per presentarmelo. Spermo un po' per la batteria, un po' nei voci, via, per favore se è possibile, grazie. Piero, il prossimo pezzo è il primo brano del nostro ct, che si intitola «Quindi da voglio comandante Antonella». E' questo qua, è in vendita, qui da noi lo vuoi confermati, Piero? Poi finirete. E il pezzo si chiama «Christmas Dream». E non è proprio l'albero di Natale il classico, ma se li sapete nel blues, c'è sempre questo pulsante setting up. E c'è il discorso, la parola vera, l'albero di Natale, e... poi c'è sempre questa cosa qua nel modo sensuale, no? Il bell'albero di Natale, E l'albero di Natale, e la parola vera di Natale. E l'albero di Natale, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti